Sì, tu sei pronta? Ciò che si filma Sì, non sbaglio Canta la milanzana! Canta la milanzana al forno! Canta la milanzana al forno! Si 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 è tutto fatto! Io non mi piace quel carciotto! Non è per lei! Non è per lei! Canta la milanzana al forno! Vai! Ma dietro, davanti! Da adesso il microfono! Come faccio io a mandare? Tu fai! Tu fai scassare! Ah giusto! Vai, mettitele il carciofo! E' bruciata! E canta quella canzone! La mil... Dai, io canta la canzone! Ma io non posso sardo! E non ci stai diremmo ci un'argo! E ma non so ma! Da boi faccio il show non? Hai! E carciofo! a dire che si, che cosa ci succede la dica, che scosso l'elettrica che scosso l'ordine che scosso l'ordine che stasso l'ordine che stasso l'ordine che stasso l'ordine la prova è bella che mi fermo vai così uno, due, tre tipo Roma, due, due, tre ma che bugiazza che sei che non si parla così sardo dai facciamo una persona in serio dai tira via il carciofo l'azziccio ti vedi il carciofo ma è per Valentina ma hai 5 minuti che io prendo la letto è che poi si va a mancare sarà Oh mio Dio, oh mio Dio Oh mio Dio